con questo concerto di pasqua abbiamo voluto lanciare un messaggio di pace nel mondo riunendo musicisti russi e musicisti ucraini per lanciare un messaggio di pace si può essere fratelli si può suonare insieme anziché spararsi una preghiera in musica dove intrecciarsi sono le voci potenti di queste tre donne insieme a un'orchestra appositamente formata da artisti ucraini e russi sotto la direzione di stefano sovrani il risultato uno straordinario messaggio di pace partito dalla basilica di sant'andrea della valle durante il concerto di punta del festival di pasqua di roma quest'anno alla sua venticinquesima edizione sono nata in unione sovietica nella città crivoi rock che adesso appartiene allo stato ucraino sono cresciuta in russia e come potete capire la mia anima è divisa in due spero che le le nostre preghiere la musica sacra darà i suoi risultati e a questo mondo arriverà pace e serenità l'addio a katherine spack i funerali